Il ponte ciclopedonale sul fiume Lento a Francavilla al Mare potrebbe essere ultimato già nella primavera del prossimo anno. Grazie al lavoro dell'amministrazione comunale all'intervento in prima persona della sindaco Luisa Russo, si è infatti sbloccata una situazione che sembrava insormontabile. Devo dire che quest'opera ha rischiato di restare un'incompiuta per decenni, invece dopo un lavoro estenuante e quotidiano di mediazione compiuta da me con l'aiuto degli uffici mettendo intorno a un tavolo tutti i soggetti che lavorano sul ponte a partire dal direttore dei lavori all'impresa appaltatrice ai subappaltatori e tanti altri soggetti sono riuscita a far sì che il cantiere venisse riorganizzato e si ripartisse in maniera regolare con i lavori che per troppo tempo sono stati fermi per diverse ragioni. Il cantiere ha ripreso dunque a lavorare a pieno ritmo e si ipotizza che l'infrastruttura che collegherà la costa nord a quella sud di Francavilla al mare potrebbe essere pronta tra la fine della primavera e l'estate del 2025. A metà novembre ha sottolineato ancora il sindaco Luisa Russo è prevista la gettata di cemento un passaggio di fondamentale importanza verso la conclusione dell'opera. Le caratteristiche di questo ponte che lo ricordiamo sarà ciclopedonale. Sì è un ponte ciclopedonale quindi per biciclette per pedoni aperto solo ai mezzi di emergenza e ha una lunghezza di circa 65 metri un pilone di altezza di 37 metri che sarà poi collegato con degli stralli sarà un'opera molto bella che collegherà la parte sud della città con la parte nord. È chiaro che poi a questo dovrà far seguito il finanziamento regionale per la pista ciclopedonale che era stato assegnato e che al momento è stato ritirato ma dovrebbe essere imminente una nuova riassegnazione per avere una pista ciclabile su tutta la costa di Francavilla ma non solo di Francavilla di tutto l'Abruzzo. Per il nuovo ponte ha aggiunto ancora il sindaco Luisa Russo è stata prevista una spesa di 1 milione 850 mila euro ai quali si dovranno detrarre le penali per i ritardi accumulati dall'impresa. Una struttura realizzata a pochi metri dal marina di Francavilla al mare in un contesto particolarmente bello anche sotto l'aspetto urbanistico. E voglio anche dire che questo ponte si trova in un punto che ora è diventato una delle zone più attrattive di Francavilla con il porto e la sistemazione dell'area del porto che è diventato un luogo davvero dove si può passeggiare con grande piacere quindi il ponte sarà un valore aggiunto.